Ciao a tutti amici di Un Sorriso in Più e bentornati con il nostro appuntamento settimanale con i migliori risultati sportivi. Questo weekend c'è stata una giornata di Serie A di calcio molto particolare con una serie di risultati inaspettati, ma partiamo dall'inizio. Allora, il sabato c'è stata l'importante vittoria esterna in rimonta della Juventus per 2-1 contro il Cagliari. Una Juventus che si era trovata in svantaggio per lo splendido gol di Joao Pedro, che è poi riuscita ad agguantare il pareggio proprio all'ultimo minuto del primo tempo con il colpo di testa di Matias De Litt, sua azione di calcio d'angolo, e che infine con il suo bomber Dusan Vlaovic ha trovato la rete del definitivo 2-1 a pochi minuti dalla fine. Juventus che così si mantiene al quarto posto con un discreto vantaggio sulle inseguitrici. E andiamo proprio alle inseguitrici. Troviamo la Lazio, che ha battuto per 4-1 il Genoa in una gara mai in discussione e dove è ritornato a splendere il talento di Ciro Immobile. L'attaccante napoletano ha realizzato una splendida tripletta che ha permesso alla Lazio di portare a casa tre punti fondamentali per la rincorsa a un posto Champions. Vittoria anche per la Roma contro la Salernitana, una vittoria per 2-1 molto complicata. Infatti la squadra campana è andata per prima in vantaggio e così è stata fino all'ottantesimo minuto. Poi uno splendido sinistro da fuori aria di Carles Perez ha trovato il pareggio per la Roma all'ottantesimo minuto e soli tre minuti più tardi è arrivato anche il definitivo 2-1 per il colpo sottomisura di Chris Smalling, il difensore centrale romanista. Sconfitta invece per l'Atalanta che ha perso a Reggio Emilia contro il Sassuolo per 2-1. Atalanta che ora si trova abbastanza in difficoltà per la lotta oltre che per la Champions anche per l'Europa League e quindi per gli ultimi posti nelle Coppe Europee. Infatti è stata scavalcata anche dalla Fiorentina. Fiorentina che ha battuto per 3-2 il Napoli al San Paolo. Una vittoria fondamentale per la squadra viola e ottenuta con una partita davvero spettacolare in cui la Fiorentina è sempre rimasta lì e poi è riuscita a dare i due colpi decisivi con due splendidi gol prima di Coné e poi dell'attaccante Cabral che l'hanno portata sul 3-1. A nulla è bastato il fantastico gol di Ozyman che su un lancio lungo dalla difesa ha stoppato di petto e con il destro ha trovato il 7. Ma purtroppo il Napoli ha perso 3-2 ed è una battuta d'arresto molto brutta soprattutto per la lotta a Scudetto. Dato che l'Inter ha vinto 2-0 contro l'Ellas Verona, una partita che si è messa subito bene per l'Inter, ha chiuso il vantaggio già per 2-0 al primo tempo e non ha rischiato nulla tranne che su un'occasione di Simeone in cui però è stato molto bravo il portiere Andorovic. L'Inter quindi che si è proiettata al secondo posto in classifica ma con vista primo posto perché nel posticipo della domenica sera il Milan non è andato oltre lo 0-0 contro il Torino. Settima partita consecutiva in cui il Milan non prende gol ma nelle ultime due non è riuscito neanche a segnarlo. Milan che ora si trova a 68 punti con 2 punti di vantaggio sull'Inter che però ha una partita in meno e quindi è potenzialmente in testa al campionato. Passiamo ora al tennis. Infatti è iniziata la stagione sulla Terra Rossa e inizia subito con un fantastico torneo che è l'ATP 1000 di Monte Carlo. Abbiamo diversi italiani in gara, il torneo è iniziato solo da un paio di giorni e per ora abbiamo visto la vittoria di Fognini che così si è qualificato per il secondo turno, la vittoria di Lorenzo Sonego e la vittoria di Yannick Sinner. Purtroppo non ha passato le qualificazioni un nuovo giovane su cui poniamo grandi speranze che è Flavio Cobolli. L'assenza più importante però è del numero 6 al mondo cioè Matteo Berrettini. Il tennista romano si è dovuto operare al polso e purtroppo salterà tutti i tornei antecedenti al Roland Garros, compreso il torneo di Roma. Passiamo ora ai motori, infatti si sono corsi sia la Formula 1 che la MotoGP. In MotoGP è arrivata la splendida vittoria di Enea Bastianini sul circuito americano di Austin in Texas. L'alfiere della Ducati è riuscito a rimanere agganciato alle posizioni di testa fino a metà gara quando approfittando di una migliore gestione delle gomme ha inanellato una serie di giri veloci che gli hanno permesso di chiudere il Gran Premio in prima posizione e con ben due secondi di vantaggio sugli inseguitori. Al secondo posto si è piazzato infatti lo spagnolo Rins su Suzuki e al terzo posto Jack Miller sulla Ducati Ufficiale. Ducati Ufficiale è guidata anche da Pecco Vagnaia che è arrivato però soltanto quinto. Enea Bastianini si ritrova anche in prima posizione nel Moto Mondiale con ben due vittorie nelle prime quattro gare. Si è corsa come dicevo anche la Formula 1 che sul circuito di Melbourne in Australia ha visto trionfare ancora la Ferrari con uno splendido Charles Leclerc che ha condotto la gara in maniera magistrale tanto da completare un Grand Schlam. Il Grand Schlam è quando hai la pole position, il giro veloce della gara, la vittoria della gara e rimani in testa alla gara dal primo all'ultimo giro. E l'alfiere della Ferrari ha fatto tutte queste cose. Al secondo posto sembrava avviato Max Verstappen che invece è stato ancora tradito dalla sua Red Bull che per un problema sempre di di motore o di alimentazione di benzina è rimasto così appiedato. E' arrivato secondo il suo compagno di squadra cioè il messicano Sergio Perez su Red Bull e al terzo posto si è classificato George Russell su Mercedes. Purtroppo è stato un weekend molto sfortunato per l'altro ferrarista cioè Carlos Sainz. Lo spagnolo della Ferrari dopo una qualifica rovinata da un piccolo errore e quindi una partenza dalla nonna posizione ha avuto prima un problema al volante che non gli ha permesso di fare una partenza decente. Infatti ha perso subito cinque posizioni al via rischiando addirittura di essere tamponato dalla macchina che lo seguiva tanto è partito piano e poi nella foga di recuperare ha commesso un errore andando sull'erba e la sua macchina si è girata ed è finita nella ghiaia. Da qui non è stato più possibile purtroppo ripartire. E' stato il primo ritiro dopo tre gare per la Ferrari che però si consola con il primo posto sia nella classifica costruttori che nella classifica piloti con Charles Leclerc. Per questa settimana è tutto ragazzi ci troviamo settimana prossima con Passione Sportiva di Mattia. Ciao a tutti! Grazie a tutti!